Musica Carobolletti, un lucano su tre a rischio povertà energetica, la stima della CGA di Mestre sui dati. Oipe, la Basilicata tra le quattro regioni al sud, messe peggio e senza un sostegno alle imprese si profila un autunno con il pilli in netto calo. Costi alle stelle anche nel settore scolastico per le famiglie lucane a basso reddito affrontare il nuovo anno senza un aiuto dalle istituzioni si rischia il salasso. La previsione di spesa per il corredo segna un aumento tra il 6 e l'8%. Lucani uniti nella fede per la Vergine del Sacro Monte di Vigiano, stamane processione all'alba fino alla Basilica, poi la celebrazione eucaristica, devozione e tradizione per una festività religiosa che attira pellegrini da tutto il sud. Chiusura col botto ieri a Rotonda per la dodicesima edizione del Bianco e la Rossa, la festa dedicata ai due prodotti del Pollino, una tre giorni di dibattiti, show cooking e spettacoli con una produzione in forte crescita. Il calcio di Serie C al via il campionato per Potenza e Picerno, entrambe impegnate questa sera in trasferta contro Andre Catanzaro, prima giornata di campionato anche in Serie D con Francavilla, Matera e Lavello a caccia dei primi punti stagionali. Buona domenica e ben ritrovati all'appuntamento con informazione sulla nuova TV. L'avete sentito dai titoli in apertura, torniamo ad occuparci del caro energia. Con l'impennata delle bollette provista per il prossimo autunno si rischia lo shock economico per molte famiglie. La Cigia di Mestre ha stimato i livelli di povertà energetica, ovvero quanti sono i cittadini lucani che non possono permettersi di tenere accesi termosifoni e climatizzatori. La Basilicata in questa classifica è tra le regioni messe peggio al sud, con un lucano su tre in difficoltà. I dettagli da Celestino Benedetto. I cittadini italiani a rischio povertà energetica sono circa 9 milioni, in Basilicata un lucano su tre. Sono le previsioni contenute nel report realizzato dall'ufficio studi CGA sui dati OIPE 2020. Numeri allarmanti anche perché sottodimensionati, poiché raccolti prima dello shock energetico scoppiato dalla seconda metà del 2021. Si stimano in condizioni di povertà energetica i nuclei familiari che non riescono a utilizzare con regolarità l'impianto di riscaldamento d'inverno, quello di raffrescamento d'estate e a causa delle precarie condizioni economiche non dispongono o utilizzano saltuariamente gli elettrodomestici ad elevato consumo di energia. Nell'identikit delle famiglie vulnerabili, quelle con un elevato numero di componenti, con il capofamiglia inoccupato o con un lavoro saltuario. A livello geografico la situazione più critica si verifica nel mezzogiorno. Qui la povertà energetica è la più elevata d'Italia e interessa tra il 24 e il 36% delle famiglie. La Campania è la regione maggiormente in difficoltà, poi Sicilia e Calabria. La Basilicata in questa classifica si trova al quarto posto tra le regioni messe peggio. Qui da noi il numero delle famiglie che utilizza saltuariamente luce e gas oscilla tra le 56.000 e le 84.000, con una frequenza tra il 24 e il 36%, mentre la stima relativa alle persone interessate sfiora quota 200.000. L'aumento esponenziale dei prezzi delle bollette prevista per l'autunno potrebbe peggiorare la situazione soprattutto per i lavoratori autonomi, che non rientrano tra i destinatari del bonus gas immaginato dal governo regionale guidato da Vito Bardi, una misura che prevede a partire da ottobre uno sconto in bolletta sul gas naturale, ma solo per cittadini e denti locali, non per le imprese e i privati, che attendono ancora risposte concrete dai vertici di Viale Verrastro. E a pesare sulle tasche dei lucani non c'è soltanto il caro. Energia, l'acquisto di materiale scolastico costerà fino all'8% in più rispetto allo scorso anno. Un salasso per le famiglie, secondo le stime di Cooperativa Alleanza 3.0, il servizio di Donato Carbonella. Un'altra mazzata per le famiglie lucane, gialle prese con i rincari dei prezzi di ogni genere e il carrello della spesa che si fa sempre più leggero. Senza un concreto aiuto da parte delle istituzioni, affrontare l'anno scolastico sarà un vero e proprio salasso. Le spese per diari, astucci e tutto l'occorrente, libri esclusi, quest'anno fa segnare un aumento in previsione fra il 6 e l'8%. La proiezione di Cooperativa Alleanza 3.0, fatta sui dati dei propri punti vendita, oltre 350 in nove regioni. In base alle stime per le risme di carta, ad esempio, l'aumento è fra il 10 e il 30%, per zaini, astucci e cartelle fra il 3 e il 5, con una spesa media fra luglio e settembre di 230 euro. L'impegno della cooperativa, ha spiegato il presidente Mario Cifiello, e nel calmierare più possibile i prezzi, perché l'accesso all'istruzione è una questione non negoziabile. Prevista infatti una campagna di sconti anche fino al 30% e del 15% sul prezzo di copertina dei volumi scolastici nuovi e 60% di sconto per soci e consumatori per quelli usati. Nel caso di consegna di libri usati, soci e consumatori riceveranno un buono spesa pari al valore del 30% del prezzo originario, ma le iniziative non finiscono qui. Il 10 settembre tornerà a Donna la spesa per la scuola, la raccolta di materiale scolastico che i clienti possono acquistare in quasi 200 punti vendita e con EasyCop dove è attivo il servizio di spesa online, che lo scorso anno ha permesso di consegnare 165.000 confezioni di prodotti a chi ne aveva più bisogno. Scelte che ci si augura siano intraprese anche da altre realtà commerciali. Il peso della congiuntura internazionale sui cittadini, anche in vista dell'inverno, è pesante e va superato in modo equo, oltre le differenze territoriali che spesso si notano, specie sui tempi di erogazione dei sostegni. Adesso voltiamo pagina con le elezioni politiche. In vista del voto in programma il prossimo 25 settembre continua la corsa dei BIG impegnati negli incontri sui territori. Oggi è la volta di Unione Popolare. In mattinata Luigi De Magistris è stato accolto a Potenza. Poi nel pomeriggio si recherà in Valdagri per la presentazione dei candidati della compagine di sinistra che ingloba i movimenti DEMA, Potere al Popolo e Rifondazione Comunista. La lista, chi ha come portavoce l'ex sindaco di Napoli, si schiera come lista per la giustizia sociale e ambientale contro l'agenda Draghi e contro la guerra. Si rivolgono in particolare i giovani alle imprese e i punti del programma di Noi con l'Italia, movimento centrista che ieri, con il coordinamento del candidato capolista alla Camera, Francesco Cannizzaro ha fatto tappa a Policoro con la presenza dei due leader nazionali, Maurizio Lupi e Giovanni Toti. Ieri giornata lucana per la Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, con l'intervento telefonico di Silvio Berlusconi. Sempre ieri sera però a Matera, protagonista il centrosinistra con il Presidente del Lanci, Antonio De Caro, che ha parlato di caro energetico, di aiuti alle famiglie. Vincono le idee, vince la Basilicata e questo lo slogan che ha visto riuniti in piazza Partito Democratico, articolo 1, Partito Socialista Italiano più Europa, Europa Verde ed impegno civico. Cambiamo decisamente argomento, una tradizione che si ripete ogni anno e che unisce Lucani nel culto dedicato alla Vergine del Sacro Monte di Vigiano stamane la processione all'alba fino alla Basilica per la celebrazione eucaristica ufficiata da Monsignor Salvatore Ligorio. Devozione e tradizione popolare si intrecciano in una festività religiosa che attira pellegrini da tutto il sud Italia. I dettagli nel prossimo servizio. Il volto è quello dolce e comprensivo di una madre che tiene amorevolmente sulle ginocchia il suo bambino. L'effigie in stile bizantino è una delle più antiche raffigurazioni della Vergine Maria, presente in Basilicata, custodita nel santuario che fu eretto nel XIV secolo, nel luogo in cui, secondo la leggenda, venne ritrovata l'immagine della Madonna. Il culto per la Vergine Nera di Vigiano è tra quelli più sentiti in terra lucana. Ogni anno una suggestiva processione in onore della patrona della nostra regione si ripete la prima domenica di maggio e la prima di settembre. In primavera i fedeli portano a spalla la statua, mentre i pellegrini intonano canti popolari, la processione parte dal paese e raggiunge il santuario del Sacro Monte. La prima domenica di settembre, invece, per la traslazione di ritorno, i pellegrini salgono al monte la notte del giorno prima, per i tre giri di rito intorno al santuario. All'alba della domenica, poi, parte la processione verso il paese, che accoglie il ritorno della Madonna. Ed è quanto è stato ripetuto anche in questa occasione, con una partecipazione di fedeli e pellegrini, circa 30.000 presenze, arrivati da tutta la Basilicata e anche da fuori regione, nonostante il tempo incerto. L'effigio della Madonna, dopo la Santa Messa al Monte e la processione, è stata accolta in piazza per la Santa Messa Pontificale, preseduta da Monsignor Salvatore Ligorio. Per tutto il pomeriggio, pellegrini in adorazione in piazza, Giovanni XXIII. Alle 19, Santa Messa Vespertina, sul Sagrato, preseduta da Monsignor Carlo Mazza. E alle 24, la Stato della Madonna torna in Basilica. E' Lucano, il poliziotto eroe che ieri ha salvato una giovane turista salita sul cantiere della chiesa degli Scalzi, alla stazione di Venezia. Si chiama Alberto Crispo, ha 29 anni ed è originario di Grassano. Le immagini amatoriali dei passanti, che in quel momento erano in strada, hanno filmato con il fiato sospeso quanto è accaduto. La ragazza, una ventenne dei Paesi Bassi, si è infilata dentro al telone dell'impalcatura. Ha iniziato a scalare la struttura fino ad arrivare in cima. a un'altezza di circa una cinquantina di metri. Crispo ha sentito urlare, guardando verso l'alto. Ha visto la scena precipitandosi per salvarla. L'agente ha afferrato la ragazza per un braccio, trattenendola e poi tirandola su. Non chiamatemi, eroe, ha dichiarato l'agente. Ho fatto soltanto il mio dovere. Fiero di appartenere alla polizia. E veniamo adesso ai numeri della diffusione della pandemia da Covid-19, con i dati diffusi ieri dalla Task Force regionale. Lieve incremento dei nuovi positivi, ma fortunatamente non è stato registrato alcun decesso. Su 1.076 tamponi processati, 217 positivi, tre residenti. 163 in provincia di Potenza e 54 in quella di Matera, con un tasso di positività che dal 19% dell'ultimo monitoraggio sale al 20. 214 le ultime guarigioni, mentre sono 6.832 i Lucani attualmente alle prese con il virus. Sul fronte ospedaliero si torna a scendere, sono 40 le persone ricoverate, 22 al San Carlo di Potenza e 18 al Madonna delle Grazie di Matera. Non ci sono assistiti nelle terapie intensive. Capitolo vaccinazioni, 562 le somministrazioni effettuate negli hub Lucani nella settimana dal 27 agosto a ieri. La metà esatta di quelle somministrate nei sette giorni precedenti. Campagna rilento soprattutto per quanto concerne le quarte dosi. Adesso la pagina degli eventi. Chiusura col botto ieri a rotonda per la dodicesima edizione del Bianco e la Rossa. La festa dedicata ai due prodotti tipici del pollino, una tre giorni di dibattiti, show cooking, degustazioni e spettacoli iniziata a colpi di ricette con gli chef coordinati da Fabio Campoli, il servizio di Luca Tamburrino. Una produzione in continua crescita, con ben 200.000 piantine piantate quest'anno, 50.000 in più rispetto allo scorso anno, 70 i quintali raccolti fino a fine agosto e 400 in totale la scorsa stagione. Sono i numeri della melanzana rossa di rotonda D.O.P., protagonista insieme al fagiolo bianco D.O.P. della dodicesima edizione di Il Bianco e la Rossa, la festa dedicata ai due prodotti del pollino. Una tre giorni di dibattiti, show cooking, degustazioni e spettacoli iniziata a colpi di ricette con gli chef Donato Chiacchio, Giuseppe Francese e Antonio Libonati. Super ospite e coordinatore, lo chef Fabio Campoli, personalità fulcro della Food Experience, pioniere di una nuova visione manageriale della cucina, intesa non solo come luogo, ma anche come fulcro di idee. Parliamo di due prodotti unici, un comune che ha due top in Italia e già fantastico, due top che sono ricche di tradizioni, storie ed usanze, quindi venire qui è percepirne l'essenza da trasferire in cucina. La melanzana rossa, come ha ricordato lo chef, ha un sapore particolarissimo e una grande persistenza. La si può servire anche al carpaccio. Il pregiato fagiolo bianco si adatta a ricette sia di carne che di pesce, di grande carattere. Nel corso della manifestazione spazio anche al dibattito turistico, sul binomio di qualità sviluppato da questi due prodotti. In modo particolare è anche una festa di tutta la comunità rotondese perché sappiamo bene quanto questa festa poi mette in risalto non solo le nostre due eccellenze enogastronomiche ma tutto il nostro territorio. Quindi si rinnova una festa promozionale di marketing molto importante per tutto il nostro territorio che quindi viene pubblicizzato grazie a queste due eccellenze di nicchia che negli ultimi anni, grazie anche al lavoro molto importante dei due consorsi di tutela, stanno acquisendo sul piano nazionale ma anche internazionale un valore sempre più importante e dei riconoscimenti sempre più importanti. La produzione aumenta sempre di più. La cosa di quest'anno molto bene e importante non tanto per quello che mi riguarda l'aumento della produzione ma è che da quest'anno ci sono giovani che sono entrati a far parte nel consorzio e che si sono dedicati alla produzione della Marezzana. Questa è una cosa molto importante per dare continuità alla produzione di questo prodotto. Successo a Pomarico per il concerto di Dodi Battaglia il chitarrista dei Pù ha ringraziato i fan e l'amministrazione comunale che gli ha donato una targa in un video su Facebook. Vediamola insieme. Buongiorno, allora voglio ringraziare tutti i cittadini e in maniera particolare il sindaco di Pomarico, si chiama Francesco Mancini, per questa cosa bellissima che mi hanno regalato in una serata bellissima, forse un po' fredda, però pubblico straordinario. Grazie, alla prossima. Ciao. Adesso passiamo allo sport con il calcio, giornata di debutti nel campionato di Serie C per Potenza e Picerno, entrambe saranno impegnate. Questa sera è in trasferta contro Andre Catanzaro, prima giornata di campionato anche in Serie D con Francavilla, Matera e Lavello che vanno a caccia dei primi punti stagionali. Donato Valvano. Messi da parte amichevoli estive e passerelle per le presentazioni ufficiali, questa sera Potenza e Picerno faranno sul serio. I rosso-blu del nuovo presidente Donato Macchia saranno di scena al Degli Ulivi contro la Fidelisandra e sfideranno la formazione di mister Cudini. Sarà battesimo nel calcio dei grandi anche per mister Siviglia che alla vigilia del match ha alzato la temperatura e non vede l'ora di scendere in campo, questa sera alle 20.30. Stesso orario per il debutto o per meglio dire del ritorno tra i professionisti per il tecnico del Picerno Longo che con la sua squadra avrà un impegno dall'elevato coefficiente di difficoltà al Ceravolo contro il Catanzaro. Si comincia anche in Serie D con le tre formazioni lucane che scenderanno in campo per il campionato dopo l'antipasto della Coppa Italia delle scorse settimane. Il Francavilla di De Luca se la vedrà in casa contro la Corazzata Brindisi, mentre il Lavello andrà a fare visita al Forte Fasano. Torna in un campionato nazionale anche il Matera che sarà di scena al Paolo Poli di Molfetta contro l'ex Biancazzurro Renato Bartoli. È solo la prima giornata, ma le aspettative per le tre formazioni lucane sono alte e dovranno dare già le prime risposte ai propri tifosi. E per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento con il TG Flash delle 17. Grazie per essere stati con noi e buona domenica. Arrivederci. Grazie. Grazie.